Il nostro guru del canottaggio azzurro, siamo ancora a un'altra Olimpiade, un'ulteriore avventura a cinque cerchi per te, come affronterai quest'Olimpiade? Affronterò quest'Olimpiade come sempre, con molta determinazione, però con un bagaglio alle spalle e un'esperienza alle spalle maggiore. Sicuramente alle mie spalle ho tre giovani entusiasti con grande determinazione che mi aiuteranno in questa impresa. Un'impresa pronta a prendere il volo, questo 4 di coppia è stato formato nell'ultimo periodo, quali sono le sensazioni del 4 di coppia? Questo 4 di coppia è un po' improvvisato, un po' preparato all'ultimo periodo, però diciamo che siamo riusciti a unirci bene sia a livello caratteriale e anche a livello tecnico siamo cresciuti, quindi abbiamo delle buone sensazioni, quindi aspiriamo in alto, logicamente dovremo fare i conti con gli avversari e speriamo bene, noi ce la metteremo tutta e siamo ottimisti. Qual è la vostra arma segreta, se si può dire? Io credo che la nostra arma segreta è l'unione tra di noi, abbiamo un bel feeling, un bel rapporto d'amicizia da tutte e quattro e quello credo che sia un'arma e un valore aggiunto alla barca. Grazie Grazie a voi, grazie mille